buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 18 giugno 2024 una giornata di inizio settimana possiamo dire abbiamo nel nostro prossimo futuro una composizione di carattere politico amministrativo per la città di fano ma anche per tante altre comunità che hanno superato il traguardo delle elezioni e quindi stanno progettando il loro futuro bene ci sono sommovimenti ci sono così cambiamenti di direttiva proprio l'ultimo minuto i contratti le discussioni i rapporti insomma si stanno un po così puntualizzando ma vedremo che cosa è accaduto nella giornata di ieri benissimo allora cominciamo subito con l'almanacco del giorno e vediamo qual è il santo che si festeggia eccolo qua e san gregorio barbarigo un cardinale visse nel diciassettesimo secolo era di venezia un veneziano nato a venezia da nobile famiglia istriana si laureò in scienze religiose e dopo una parentesi romana in cui si distinse per la propria cultura fu nominato vescovo di bergamo e poi addirittura cardinale destinato alla diocesi di padova e più volte pensate più volte nei conclavi a cui partecipò ne partecipò due conclavi rischiò di essere eletto papa fu incluso nel libro dei santi da papa giovanni ventitresimo nel 1960 questo è san gregorio barbarigo vediamo anche le previsioni del tempo continua continua l'estate con più o pochi giorni di anticipo nel nostro territorio arriva anche minosse il caldo africano che sta un po così dilagando in tutta italia tempo stabile con cielo sereno in tutta la regione clima caldo con punte fino a 32 34 gradi la minima si è attestata a 19 gradi minima piuttosto elevata i venti sono deboli con una direzione da sud est sulle coste e da est sud est nell'entroterra il mare il mare è calmo il sole è sorto alle 5 24 e tramonterà alle 20 e 52 questo è l'arco di un'ampia giornata solleggiata piena di luce che vi auguro di vivere serenamente ci sono notizie di cronaca che magari dicono il contrario però insomma la speranza è sempre l'ultima a morire allora diamo un'occhiata subito alle notizie che appaiono oggi sul resto del carlino ma appaiono anche le stesse sul corriere adriati e cominciamo comunque dal carlino oggi per vedere la sentenza di corinaldo ebbene una sentenza sciocche che non ha fatto soddisfatto i parenti delle persone che sono decedute in quella lontana giornata triste che ha seminato molti molti lutti corinaldo una sentenza sciocche sicurezza della discoteca tutti assolti per i reati più gravi le condanne per gli amministratori responsabili sono arrivate soltanto per reati meno gravi come quelli di falso con di falso con pene di un massimo di un anno o due mesi di reclusione tutte le pene sono state sospese pensate una discoteca che non era sicura ma sulle morti di cinque ragazzini e di una mamma di una mamma di 39 anni che ha lasciato orfani quattro bambini non c'è responsabilità per la commissione di pubblico spettacolo che doveva così dare il via alla festa che era stata organizzata e quindi vegliare sulle condizioni di sicurezza secondo i giudici però i componenti commissari di questa assemblea non sono stati ritenuti colpevoli ebbene il processo bis per la strage di corinaldo è finito con la soluzione per tutti e nuovi gli imputati con formula piena perché il fatto non sussiste questa è la frase che è stata usata per i reati più gravi che la precura contestava l'omicidio colposo plurimo e il disastro colposo non c'è stata condanna non c'è stata condanna le condanne per gli amministratori e un ingegnere esterno sono rimate solo per il reato di falso ideologico e in atto pubblico con pene da quattro mesi ad un anno e due mesi di reclusione tutte però sospese per i benefici di legge quindi c'è anche molto molto rammarico da parte dei parenti delle vittime i quali hanno dichiarato giustizia eccolo qua giustizia non è fatta li hanno uccisi ancora la rabbia dei familiari presenti al processo una sconfitta una sconfitta hanno dichiarato dove le persone più deboli ci rimettono sempre perché certe persone rimangono scomode da condannare e dove e ai nostri figli così sono morti due volte quindi hanno detto i genitori insomma i parenti dei ragazzi che sono morti in quel ammasso confuso di fuga che c'è stata dopo quanto era accaduto all'interno della discoteca e c'è anche una dichiarazione di francesco vitali leggo questa su tutte le altre francesco vitali di fano mia sorella è stata uccisa un'altra volta siamo affidati ad un paese che tollera queste cose mia sorella è morta perché dei ragazzi hanno spruzzato del peperoncino ma lo hanno spruzzato in altre milioni di discoteche e non è mai morto nessuno perché a corinaldo sì perché a corinaldo sì evidentemente secondo appunto francesco vitali a corinaldo non c'erano quelle condizioni di sicurezza per fare fluire tutta la massa di gente che spaventata intendeva uscire all'aperto c'è stato un imbuto e in quell'imbuto purtroppo sono morte tante ragazzi tante persone cinque sono veramente una enormità ed ora passiamo alla notizie di fano così come le pubblica il il resto del carlino con un'altra in apertura con un'altra notizia di cronaca si tratta di quel fatto di quell'aggressione che c'è stata nei pressi del fano center al parcheggio del fano center dove un uomo è stato traffitto all'addome all'addome colpa di mancata precedenza ancora una volta una lite stradale e confluita in un atto di violenza e questo che emerge dalle indagini dopo l'arresto di tre persone da parte della polizia nel loro furgone è stata trovata anche una mazza da baseball che è stata comprata poco prima l'avvocato comunque dice non c'è alcuna premeditazione una mancata precedenza dunque all'incrocio degenera un fatto di sangue lui dopo quello sgarro l'ha seguita con l'auto per un po' insomma un automobilista è stato oggetto di una mancata precedenza da parte di un altro automobilista e beh dopo che questo è avvenuto quello che ha subito il mancato rispetto del codice ha continuato a seguire quello che lo precedeva addirittura ostacolandolo nel tragitto all'interno c'era una donna e questo ha raccontato lei una volta tornata a casa ha raccontato tutto al figlio e al compagno e allora dopo quello che è accaduto le vittime in questo caso i parenti della vittima si sono organizzati e tutto poi è confluito in un episodio di violenza leggiamo bene la dinamica di questo incidente allora una mancata precedenza l'abbiamo detto lui dopo quello sgarro l'ha seguita con l'auto per un po' addirittura ostacolandola nel tragitto e lei ha raccontato tutto a casa figlio e compagno della donna il giorno dopo con un terzo uomo si sono lanciati sulle sue tracce quella che doveva essere una discussione chiarificatrice e poi sforciata nella violenza e quanto emerso ieri durante l'udienza di convalida dell'arresto dei tre aggressori che venerdì scorso sono finiti in manette per lesioni personali aggravate e premeditate ieri erano presenti in aula quindi le indagini si sono ormai concluse secondo una ricostruzione il figlio della donna il compagno e il terzo si sarebbero recati fino a bellocchi per verificare l'eventuale presenza del giovane che effettivamente era intracciato poi hanno seguito dove fino al fino al fano center e qui è accaduto il fattaccio insomma un evento che deriva un po' dal impulso di una vendetta di una punizione che deve essere fatta a sé mentre il tutto si sarebbe ricomposto con una informazione con una denuncia agli organi inquirenti parcheggio a torrette debutto col botto auto all'assalto ebbene torrette finalmente ha un suo grande parcheggio 450 posti auto la sua disponibilità un parcheggio posizionato in una posizione strategica perché si trova veramente a pochi passi dal sottopasso che conduce sul lungomare e gli autisti che parcheggiano la macchina in questo campo non hanno nemmeno bisogno di passare attraverso la statale ma hanno un passaggio diretto sul sottopasso e questo è una delle condizioni di sicurezza veramente essenziali il parcheggio è stato messo a disposizione dall'operatore torroni che il proprietario del campo per due anni in forma del tutto gratuita quindi non c'è alcun ticket per parcheggiare le auto ed è stato poi reso tale perché era un campo agricolo reso tale dall'associazione torrette promotion di marco battistelli con la collaborazione dell'amministrazione comunale di fano dell'assessore l'ex assessore al turismo etienne lucarelli i quali ci sono preoccupati per avere tutti i permessi da parte dell'anas e da parte anche della prefettura per rendere agibile un campo agricolo in un parcheggio quindi la segnaletica quindi l'accesso all'area e quindi tutta la disponibilità il percorso interno e via dicendo quindi una grande struttura che permette a torrette di decollare torrette il turismo è una delle componenti essenziali della sua economia e quindi può progredire e può finalmente respirare a parte il fatto che poi sul lungomare di torrette è stata conclusa la passeggiata del waterfront che ha qualificato anche dal punto di vista estetico questo bellissimo lungomare vediamo le altre notizie eccola quella di politica giunta l'udc strappa a fratelli d'italia solo due assessori ebbene ieri si è tenuta la prima e importante riunione per quanto riguarda la composizione della giunta fanese ebbene le richieste dei partiti sono state superiori ai posti che erano a disposizione nove assessori vorrebbero sommate tutte le richieste le componenti della coalizione di centrodestra mentre solo sette sono i posti disponibili e a volerne di più ai fratelli d'italia il partito che ha ottenuto più voti e che vorrebbe addirittura tre assessori ma vediamo parallelamente come la notizia viene riportata anche dal corriere adriatico subito tensioni per la nuova giunta chiesti nove assessori ma ce ne sono solo sette le proposte di fratelli di forza italia di forza italia scavalcano pollegioni dell'udc che per protesta abbandona il tavolo della discussione ebbene abbiamo detto che fratelli d'italia vuole tre assessori ma questo probabilmente fa sì che poi non ci sia posto per tutti e probabilmente si dovrà accontentare di due assessori ma ovviamente è una speculazione perché poi sui giornali ancora sono speculazioni sono proposte tutto è in divenire tutto è da decidere e allora il problema è causato in questo momento dall'udc che è rimasto fuori da ogni posto udc si era presentato in lista con forza italia e noi moderati ebbene stefano pollegioni aveva ricevuto un maggior numero di voti e inferiore soltanto a quello della candidata della di forza italia che dunque vediamo un attimo la candidata di forza italia che aveva avuto più voti di tutti e che ha rifiutato sembra il posto di assessore preferendo invece di andare all'aset e quindi se la giunta si fa con il numero delle preferenze al posto di assessore avrebbe dovuto andare stefano pallegioni in realtà forza italia ha fatto altri nomi ebbene mentre fiammette rinaldi che privilegia appunto l'aset come abbiamo detto per l'assessorato si sarebbero fatti i nomi di mauro talamelli di antonino terlizzi nevio paganelli ed enzo di tommaso ed enzo di tommaso e quindi manca stefano pollegioni e stefano pollegioni non ha firmato alla fine il comunicato stampa a conclusione di questa riunione e quindi tutto ora dovrà essere ridiscusso ridefinito riequilibriato soprattutto per far sì che poi i posti vengono così assegnati nel modo opportuno e soprattutto nel numero opportuno perché più di questo non si può fare per quanto riguarda gli altri partiti vediamo che che ha la lega la lega dunque vediamo se trovo dunque il secondo partito invece che ha ritenuto più che ha ottenuto più voti nel centrodestra e cambio passo il quale ha chiesto due assessori ha chiesto due assessori e oppure in alternativa un assessore e la presidenza di aset la lega la lega ha chiesto ugualmente due assessorati tra cui il vice sindaco e poi ha chiesto anche la presidenza del consiglio comunale e la presidenza di aset forza italia abbiamo detto ha chiesto un un assessore e la vice presidenza di aset appunto quella che andrebbe a fiammetta rinaldi e poi ci sono anche civici fanno i civici fanno hanno chiesto anche loro un assessore per cui si dà per scontata la nomina di loredana mangarnino scusate mettiamolo dritto ecco il giornale la nomina di loredana mangarnino e la presidenza della commissione lavori pubblici per il consigliere subentrante se la mangarnino va in giunta lascia libero un posto nel consiglio comunale e per quanto riguarda le presidenze delle commissioni modo particolare quella dei lavori pubblici andrebbe a cristian forti comunque è impossibile accontentare tutti insomma luca serfilippi avrà il suo bel da fare cercare di comporre tutto quanto in una casella i cui scacchiere sono i cui scacchi sono quelli insomma e non ce ne sono altri non si possono aggiungere in corso d'opera comunque auguriamo un buon lavoro a luca luca serfilippi insomma affinché la giunta fanese sia fatta da gente esperta da gente capace da gente che sappia prendere le redini della città per un futuro di maggior benessere per tutti allora giunta l'udici strappa a fratelli d'italia solo due assessori in titola il resto delle carlino ripartono i giovedì della confraternita un lungo una lunga lista di incontri un lungo programma di incontri che comincerà domani anche se domani non è il giovedì ma giovedì c'è la partita degli europei quindi si è appunto spostata questo giorno per avere un po di gente almeno a questo incontro l'appuntamento è con l'associazione corale luigi tonino bossi di senigallia che prima di esibirsi relazionerà con la fanese manuela palmucci su cesare tonini bossi il cantante lirico fanese la cui storia si è intrecciata con quella della fano del 1800 e dobbiamo dire che mentre il nome di cesare tonini bossi risuona un po' nell'orecchia dei fanesi ebbene generalmente non si conosce ormai la vita l'importanza di questa grande figura della lirica italiana vediamo che intanto procede anche fuori brodetto la settimana golosa qui ci sono i ristoranti protagonisti dove si può gustare un buon piatto di brodetto a prezzi convenzionati e poi vediamo invece ai colli dal metauro una esercitazione di salvataggio nel mezzo di un fiume di un torrente cosa che quanto mai opportuna dopo gli incidenti che in altre regioni si sono verificate a questo proposito aiuto un auto nel fiume ma era una finta era una esercitazione però si sono impegnati sul serio tutti i mezzi di soccorso in modo particolare quelli dei vigili del fuoco che hanno sono intervenuti con dieci mezzi tra i quali un elicottero furgoni fuoristrada e gommoni a motore ebbene tutto questo sul metauro tra calcinelli e villanova in modo che quando speriamo che non accada ma se accadesse una cosa del genere l'apparato di soccorso possa intervenire in modo rapido ed in modo efficiente e poi a pergola invece ci discute sul fatto di ordine pubblico che è accaduto recentemente dove un uomo del bangladesh ha salito un suo connazionale colpendolo alla testa aggressione in centro servono più divise ebbene il fatto è stato oggetto di un incontro tra il sindaco Diego Sabatucci e Antonio Baldelli che è diventato un po' anche un amministratore della propria città vertice tra sindaco Sabatucci e Baldelli carabinieri e polizia locale concordata una presenza più assidua quindi maggiori controlli perché quanto accaduto non si ripeta e allora diamo un'occhiata anche alla pagina di Urbino dove l'ex sindaco Gambini in procinto appunto di sostenere il ballottaggio afferma e dice quello che sarà il suo vice la sua vice sarà Giulia Volponi che ha ottenuto il maggior numero di preferenze l'opposizione vuole sminuirlo il 36,6% dei fondi PNR rispetto a realtà come la nostra ne ha detto parlando un po' del programma che aveva enunciato Maurizio Gambini comunque 300 preferenze di Giulia Volponi le assicurerebbero se Gambini vincesse ancora una volta il ruolo di vice sindaco un assessorato alla cultura falsa la voce che lo riconduce a me ha dichiarato il professore Giuseppe Stefano Azzarà a Durbino che nega la consistenza dei rumos quelle voci che sono così venute alla ribalta che si sono rincorse in questi giorni prima pensiamo giustamente ha detto a vincere questa è la prioritaria soluzione che si aspetta e poi diamo un addio diamo un addio ad un ragazzo ad un ragazzo che è deceduto in un incidente stradale aveva 21 anni, si chiamava Emiliano Pimpanini è morto in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Urbino tra Fermignano e Urbino è avvenuto sabato scorso un tragico incidente ebbene i suoi funerali si terranno oggi alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Canavaccio intanto l'attenzione di molti torna sul luogo della tragedia perché il luogo della tragedia è nel bivio Borzaga che porta verso via Falasconi a Fermignano un luogo dove si sono ripetuti tanti altri incidenti e come in questo caso con esiti irreparabili cioè con esiti mortali ed è un luogo in cui non devono più ripetersi questi fatti e quindi bisogna intervenire comunque la morte di questo ragazzo ha suscitato un grande compianto e allora passiamo al Corriere Adriatico siamo in conclusione abbiamo visto prima anche alcune notizie pubblicate su questo giornale abbiamo anche qui la vendetta per la lite stradale in tre agli arresti domiciliari per quanto avvenuto al Fano Center il parcheggio estivo strategico per Torrette l'area per 450 veicoli sollievo per gli operatori ha vinto la responsabilità ancora avanti a Cartoceto e qui vediamo l'equipe del sindaco Rossi che si prepara ad affrontare il terzo mandato Francesca Ciacci ottiene 508 preferenze veramente un numero rilevante e poi vediamo questo articolo che riguarda invece Senigallia eccolo qua sciocca Cesano uccide la madre poi si toglie la vita con la pistola un omicidio suicidio in una villetta si tratta del 51enne Marco Rossetti che ha sparato alla donna mentre era sulla sedia a sdraio e poi si è tolto la vita con la stessa pistola la donna aveva 87 anni è stata raggiunta da un colpo al petto le è stato fatale dopodiché secondo la ricostruzione dei fatti l'uomo sarebbe rientrato in casa barricandosi dentro per poi spararsi un colpo alla nuca il suo cadavere è stato trovato all'ingresso dell'abitazione che condivideva con la madre ora le indagini cercano di appurare il perché di questa tragedia bene era l'ultima notizia che vi segnalo questa mattina non mi rimane che chiudervi i giornali e darvi appuntamento come sempre a domani sempre alle 7 puntuali come ogni mattina grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto e a risentirci